salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di minecraft del progettoso 3 bene oggi cosa facciamo andiamo un po' avanti con la magnetica con la pneumaticraft che doveva fare appunto gli speed upgrade che aveva consigliato di fare benissimo adesso abbiamo il lubrificanto il lubrificanto si proprio quello abbiamo quindi andiamo scusate a prendere i bucket così almeno ne mettiamo un po' 64 che abbiamo qua dall'immersi così almeno ne ha fatto un po' ma prendiamo quello della pneumatica così siamo la insomma qua nel senso e dobbiamo essere a posto insomma li ha fatti cos'è questo qua lubrificanto ne abbiamo un sacco ecco qua ne mettiamo nel sistemola e siamo tutti a cavallo ecco qua così almeno non ci preoccupiamo più adesso lo diamo qua facciamo così facciamo a avevo già fatto scusate quindi togliamo anche questi togliamo anche quella teniamo un po' di roba insomma ce n'è tanta direte eccoci qua abbia giusto lui almeno che non faccia l'autocraft e mi tocca fare così ogni volta quindi questi sono staccabili chi lo sa gli speed upgrade che non vanno ovviamente qua perché questo è di fluidi che cazzo dirà che serva eh sì sono attaccabili accidenti accidentaccio in pratica grazie a questi speed upgrade possiamo limitare l'afflusso di questi tipi di cose vedete io ne ho messi quattro ne ho messi qui ne ho messi otto con gli speed upgrade ne mettiamo otto speed upgrade e facciamo uno solo di questi cioè molto 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 meglio molto meno spazio e non è male come cosa ragazzi possiamo limitare tanto l'afflusso di cose non sarebbe male quindi io cosa faccio adesso ne prenderei un altro po' adesso non ne ho fatto tanto perché ovviamente questo si è fermato però dopo facendone uno solo rispermiamo anche il carburante insomma il carburante è otto volte più veloce quindi no perché alla fine è come se fossero otto però almeno siamo messi meglio quindi adesso io ne farei un altro po' ne prenderei un altro po' ok poi li farei un altro po' così siamo posto e non ci dobbiamo preoccupare più di tanto così almeno vado a fare tutti questi qui così almeno non ci dobbiamo preoccupare e almeno libero un po' di spazio perché insomma è un po' ingombrante tutto sto macchinato c'è il il preset diciamo vediamo quanti ne riesco a fare ancora dove quanti ne ho basta non è più allora 16 quindi io in teoria a livello teorico se non ho detto una cacata e scusate se l'ho detta basta far così ok perfetto vedete le stelle che ci sono se io facessi quattro qua e quattro qua con il call dovrei essere a posto facciamo così due stack due stack e lui dovrebbe produrre quello che effettivamente mi serve per fare quello che devo fare ovviamente mi mancano dei diversi articoli di control che mi servirà a metterli e sicuri di control così almeno non mi va a esplodere e siamo a posto io direi che così almeno abbiamo limitato la stessa cosa farò di qua così almeno ragazzi insomma respiriamo perché se no è veramente molto molto ingombrante ecco qua quindi facciamo così facciamo così poi facciamo così e a meno abbiamo come dire limitato un po le cose sette vanno bene facciamo questi qua adesso questi facciamo oddio le misi qua non importa così così e così le le levi ci sono perfetto mettiamoli qua oddio ho finito l'energia ovviamente io quando devo spiegare finisco sempre l'energia o è buio finisco l'energia insomma le faccio sempre di cacate a tutta randa questi ci servono perché se non ricordo male si possono utilizzare per fare altre cose si non tante alla fine i liquidi di compressor che è machine generato compression e rusing variate liquidi per possibile aprire poi se interessate poi ci guardiamo allora stavo dicendo scusate non voglio farvi perdere tempo prendiamo altri due di questi poi facciamo questi upgrade e siamo a posto lo tac ecco qua così almeno ne metto uno qua uno qua qui facciamo così qui facciamo cosa e così abbiamo limitato parecchio parecchio il tutto cioè molto molto più sicuro molto molto meno ingombrante così almeno ha un senso avere tutte queste cose qui vedete queste qui comunque andranno collegate qua la temperatura ci arriva perché ci arriva e sta funzionando vedete con solo quattro è tutto è tutto un altro discorso quindi stesso discorso qua le troglierò questi due ma posso mettere anche solo uno a sto punto che collego un cavo solo e fa con uno faccio tutto qui stesso discorso ne metto uno uno qua e basta adesso faccio gli upgrade ci vediamo fra poco perfetto dai mi sono sistemato non mi dispiace purtroppo questi non posso mettere la scomparsa perché hanno il tubo comunque uscirebbe un tubo però dai alla fine ci siamo stati come dicevo non era male qui ho messo la cesta della sua mod così siamo a posto metto un po' di oil qua dentro così almeno siamo a cavallo dai io penso e credo di non essere andato proprio male ma come setup mi piace adesso devo solo dobbiamo solo vedere come funziona questo macchinario perché dobbiamo fare alcune piccole cosine perché c'è da per fare della pneumatic i macchinari avanzati che sono come cazzo sono dove questo qua avanzato eccolo qua che per far questo servirà solo il tubo e per fare questi ci vuole una cosa un po' diversa ci vogliono questi che si fanno dunque questi qua che si fanno qua dentro vedete e per fare questo il problema di base è che proprio si vuole la plastic in questo caso black plastic che non c'è problema che stiamo facendo vedete ho messo il bucket che ne abbiamo già bel po' che sto facendo in modo che dopo la facciamo quindi se io facessi così già ne sto facendo un po' per dire però adesso piano piano aspetto che si riempia bene questo qui aspetto che si riempia qui così una volta ripeto qua posso fare diverse ender tank connessi a questo e tanti saluti con l'ender tank messa qua collegata e ne faccio altre tre così le distribuisco una che va qua così e a posto una che va là e noi non abbiamo problemi per un po' poi quando qui finirà vediamo come fare però comunque abbiamo due miliardi e pass di bucket quindi penso che insomma sia il problema così imminente quindi io secondo me vi faccio vedere come si faccio vedere come si fa l'ender tank anche se l'abbiamo già fatta ma un po' che non lo facciamo la riprendiamo così siamo a posto vi faccio vedere il disegno che ho in mente di fare che dai non mi sembra una cacata di quelle grosse però dai neanche una genialata di quelle da dire oh ma c'è voglio che cazzo sei insomma ok io farei così tac e tac e tac e siamo a posto uno quattro ne servono valendo tre non c'è bisogno di fare quattro vi faccio vedere come si fa a configurarle si prendono si mettono ok poi si si prende oddio che liquida che colore mettiamo facciamo il nero facciamo il nero ok 369 ne servono non ho un po' di questi ink vediamo se ce li ho scusate non ce l'ho niente facciamo così faccio vedere li si prende io li coloro tutti uguali perché almeno così so che questi qua ci vanno questi qua capite ecco così facendo io ho queste tank configurate per essere ok per essere emesse dove andavano quindi questo qua è una configurazione che andrà ci andrà il crude oil e il crude oil volate l'oil quindi cosa facciamo ci mettiamo ok il il fluid item ce ne mettiamo quattro facciamo così così perché qui deve entrare giusto ok questo è separato perché è un fluid diverso dagli altri e lo mettiamo qua quindi qua faremo extract ok e qui ovviamente 27 è già in automatico poi andiamo qua qua ci mettiamo questo qua adesso lo colleghiamo oddio sarebbe già collegato volendo però voglio fare diverso perché voglio farlo più carino dai visto che possiamo facciamolo ci mettiamo questo qua che facciamo un bel extract extract ok e qui pieno a panno sta entrando ok perfetto adesso dobbiamo metterlo l'inserto qua quindi qui togliamo questo ok ci mettiamo questo qua ok e qui già sta entrando perché questo è un extract era già in extract e quindi qua piano piano sta entrando l'oil vedete che lo sta prendendo da qua che è già pieno quindi siamo a posto vedete sta già funzionando non c'è problema ecco qua ecco qua qui ci mettiamo una facade così siamo a posto dai non mi sembra una cacata però dopo è opinabile dopo sono gusti gusti sapete che sono gusti eccoci qua e qui sta andando quindi andiamo a vedere se va bene anche qua e siamo a cavallo mi sembra di sia così a naso però adesso vediamo sembrerebbe che va tutto alla grande abbiamo automatizzato la bellezza di quattro fluidi uno due tre e quattro perché questo è il quarto e qui abbiamo altri tre di cui uno diverso mi sembra perché uno è il diesel uno è lubrification e l'altro il gasoline qui invece abbiamo il cherosene il fuel il diesel e il lubrification quindi ne abbiamo tanti di liquidi non dico che li abbiamo tutti perché pochi ci sono anche le vacche qua ci sono anche le vacche che fanno altri fluidi e quindi io ne poi ne ho ancora da parte qua da fare quindi insomma direi che a fluidi non siamo messi male io spero di sì quindi vediamo un po' adesso come se dobbiamo fare dobbiamo fare questi circuiti allora come si fanno questi blocchi sono usati per trasportare aria sono di alta versione ok praticamente sono già sostengono un c'è bisogno dell'upgrade del del controllo in teoria perché questi sono molto più potenti 20 bar che non è poco perché quelli basici ne fanno una caccata spermatica proprio va bene per fare sti cosi abbiamo bisogno dell'orange del blu quindi blu orange poi abbiamo bisogno di tanta tanta roba mamma mia quanta roba del nero e poi presumo del ah del ciano è proprio una roba esageratica proprio per fare queste cose poi vediamo allora vediamo ancora questo e questo è fatto poi per fare questo è il blu quindi l'abbiamo già visto ma c'è anche un nero no questo è un normalo sto guardando è così a meno dopo non ci sbattiamo sempre blu e sempre blu basta serve questa roba qua quindi tanto bisogna fare un stack di ognuno così almeno siamo a posto per fare uno adesso abbiamo un po' di plastica noi facciamo così seleziamo la plastica plastic blue ok blu ah di aspettate un attimo blu e facciamo così lui in teoria ce la doveva fare non ha fatto un cazzo perché perché non ha fatto un cazzo perché non è in temperatura perché sono un pilla come il mio solito ma io sono fatto così dovete avere pazienza con me allora facciamo così e selezioniamo il blu ok e e niente lui piano piano la fa ok finito adesso piano piano facciamo un extract insert direttamente qua facciamo così così almeno siamo a posto e io sono a cavallo allora facciamo così facciamo così facciamo così facciamo li mettiamo questi che già li abbiamo qua così non mi devo sbattere tac tac quindi facciamo extract e lui si andrà a inserire qui dentro piano piano ok allora vedete sta facendo in automatico 14 allora adesso chiudiamo un attico adesso vedo di mettere anche le fasate che insomma voglio fare un lavoro non dico fatto bene però insomma non una cacata di quelle grosse eccoci qua così almeno siamo a posto qui chiudiamo oh dai è voluto abbiamo automatizzato quindi ogni volta che ci servirà qualcosa noi se facciamo così lui dovrebbe farlo in automatico però se magari la selezione è meglio ok adesso aspetto che arrivi a uno stack una volta che è arrivato lo stack tolgo questo e seleziono l'altra e facciamo così ci vuol pazienza perché è comunque lento perché deve lavorare però piano piano è tutto automatizzato manca solo un piccolo dettaglio che andrà a automatizzare a parte che ho messo questi quindi qua non ci sono problemi comunque il piccolo dettaglio è che devo mettere un colpi potente così lui lavora all'infinito perché queste tank comunque sono abbastanza capienti 2,56 prima che le riempiamo un po' ci vuole e quindi io farei così dai facciamo così poi andiamo avanti e vediamo cosa dicono le quest intanto che io mi preparo per fare queste queste le ho già fatte off camera e vediamo cosa vuole allora queste ci sto lavorando queste le abbiamo già fatte tutte queste ci sto lavorando purtroppo bisogna avere pazienza gli unici sono la branch la pressur application sono configuratori in pratica devo capire come funzionano però se non ricordo male qualcosa abbiamo qua questo ce l'abbiamo ad esempio quindi andiamo a vedere se riusciamo a già fare qualcosa poi dopo magari mi informo su che cazzo è perché non ci ho capito un cazzo e quindi insomma come il mio solito eccoci qua ovviamente tu hai qualcosa che non quadra perché questa orange io dovrei avercelo allora il die orange vuoi l'orange te lo faccio subito fammelo trovare e siamo a cavallo e questo è fatto quindi se noi facciamo così facciamo così e facciamo così tu me lo fai e siamo a posto poi va caricato con la pressione ah con la pressione interessante e questa è fatta poi non so perché tu non me la detetti forse devo fare tutte e tre prima ah perché lo vuole piena ok right click to block rotate item ok intanto facciamo anche questa e dobbiamo fare anche questa quindi facciamo tutto piano piano facciamo tutto non vi preoccupate prendiamo quello che c'è da prendere cosa vuole questo qui lo togliamo che abbiamo fatto questo qua ci vuole quello è il blu che il blu dovrei avere però insomma adesso vediamo se ce l'abbiamo e devo fare questo perché questo non ce l'ho quindi questo qua lo facciamo questo qua lo facciamo ovviamente così ok e anche questa è andata e questa è fatta poi vediamo cos'altro mi chiedi mi chiedi questa che facciamo così con il rosso vediamo se ce l'abbiamo piano piano facciamo tutto non vi preoccupate ci vuole solo pazienza fai così fai così il rosso allora sempre stesso discorso a parte che ho il poppy però insomma facciamo il rosso così tanti salustri eccoci qua ovviamente pneumatric ok e qua facciamo così e abbiamo anche questa a posto adesso dobbiamo solo perché lui le vuole piene dobbiamo capire come riempirle valvola upgrade che io ho che ho messo una valvola upgrade adesso fate ricordare che cazzo l'ho messo l'ho messo da qualche parte qua questo dovrebbe potersi far sì che mi riempia la roba dentro no devo informarmi perché non ci ho capito una mazza comunque sia guardiamoci un attimo vediamo cosa dice dice incrementa la montata di aria compressa no tutto qua questo mi dici come fare pretty much user work bank ok io voglio capire come riempirle devo capirle mi devo andare a informare cioè non c'è un macchinario o qualcosa liquid compressor vediamo un po' qua dice produce aria pressurizzata con dei liquidi infiammabili proviamo a vedere magari questo che ci può essere d'aiuto ok abbiamo tutto ah ecco me li date adesso ah interessante quindi sono po' sono fatte eh vabbè per capire vabbè dobbiamo farli non è un problema lo faccio e tanti saluti ok comunque voi questa roba qui che abbiamo tutto se non ricordo malo qua e poi altro non serve quindi proviamo a farlo così almeno capiamo un pochino di più dai per riuscire un po' a comprendere le cose ok fatemi vedere che io voglio capire le cose le voglio capire allora qui liquid compressor allora mi dici cosa vuole come funzioni vediamo un po' se mi dici qualcosa questa macchina può generare compressa ad aria aria compressa usando vari tipi di liquidi vedi vedi le possibilità aprendo il fuel con i più possibili disponibili in fuel e dove cazzo è fuel questo tab è order from best tu puoi anche pompare il fluido fuori con il container ok è abbastanza chiaro quindi io devo soltanto far centrare aria compressa va bene ho capito non è una cosa però voglio capire come utilizzarlo al meglio quindi magari mi informo bene su cosa è effettivamente il suo utilizzo poi c'è anche l'advanced che si fa con la grey questo qua e così nel prossimo episodio facciamo gli advanced questo questo facciamo i tre advanced dobbiamo fare uno due tre io mi sto preparando almeno ho fatto tutto il resto e la plastica la sto facendo ci vuole solo pazienza perché qui c'è soltanto da aspettare siamo a 28 ci vorrà un po' però piano piano lo facciamo non vi preoccupate quindi ragazzi spero di essere statuti come solito vi invito lasciate un commento se vi piace la serie fammi sapere cosa ne pensate per la suite un saluto e ci vediamo ciao ciao